Primo giorno a Mollino, da grande appassionata di letteratura, la mia prima etapa è al Dave James Joyce Center. Anzi, vi dirò di più. Oggi non mi chiamerò Barbara, Brabs, Rinko Blogger o in tutti i modi in cui mi piace o vi piace epitettarmi, bensì mi chiamerò Molly. Chi è Molly? Non sapete chi è Molly Bloom? Chiunque voglia avere o aspiri ad avere un minimo di cultura deve leggere l'Ulisse di Joyce. Anzi, visto che ci siete, se volete andare subito al sodo e capire chi è, andate direttamente all'ultimo capitolo e leggete il suo monologo. Comunque ve ne parlerò anche nei diari di viaggio scritti, anche se quest'anno saranno molto ridotti perché primo non sono sola e poi perché mi voglio godere il viaggio anch'io. Ciao!